Ciao a tutti i pazzi, sono Massimo, volevo vedere la gelosia di mia moglie con uno scherzo della mitica Chulin, nel centro Maddin di Fata Maddin Maddin Chulin 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 Pronto? Pronto Massimo, buongiorno, sono Chulin Pronto? Chi è? Massimo Ah, c'è il cavo signor Massimo, scusi, sono del centro estetico qui a Loma Eh... Pronto? Centro estetico? Si, centro estetico Maddin di Fata, qui a Loma, c'è il cavo signor Massimo È a casa? Perché hai trovato posto oggi, eh? ha trovato il posto del centro stedico che deve fare ma lui viene sempre qui a fare massaggio quando è su Roma io ho trovato posto oggi solo per lui perché lui mi fa un mio preferito alle 16 lei è la sua solella o mamma? sì nonna lui è una madre ma è venuto altre volte? sì lui viene sempre a un abbonamento e siamo agli ultimi massaggi che lui fa quindi noi cerchiamo di accontentare il cliente per l'innovale e poi abbonamento e questo dov'è sta a Roma? questo si trova a Roma signora il centro estetico mani di patta mani di patta? sì sì a piazza Le Lodi e a Roma e quel signore con gladiatore no? sulla spalla ma tatuaggio? tatuaggio? che gladiatore? si sì 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 che bello massaggio che fa io quando lo chiamo io lo dico eh però io siccome devo chiamare la gassa speciale perché lui fa quello con le galino quello che ti dà tanta felicità quando viene a casa non so se ha mai notato che meraviglia che bella via non so se ha notato si ha notato qualche volta che è la più felice del solito magari vado lui che è felice si riprende signora si lui è sempre esce di qui felice da tante mance a noi e poi c'ha pure i soldi se la mamma mi viene dai i soldi ah si lui allora solo che questo costa un po' di più perché viene la gassa che fa massaggi capito? eh ma oggi non so se può venire perché c'è il doppio lavoro eh eh il doppio lavoro? va bene allora fa bene massaggio eh beh eh sì eh allora senta una cosa io prima gli ho detto che ero la mamma sì e io non sono la mamma sono la moglie ah scusi signora non volevo eh scusi un cacchio signora scusi rimasta male io non lo so lui ancora viene perché questa cosa proprio non lo so ma penso che lui stasera dentro casa non c'entra scusi signora venisse a fare il massaggio massaggiato va bene ma lui dentro casa mia non c'entra più ma signora scusi anzi quando viene dite io scusi io non volevo fare questo macello io non hai da parte il macello io prima gli ho detto che ero la mamma eh lo so gli ho detto la mamma per saperne qualcosa di più eh però lei è stata pinocchietta con me io adesso come faccio io perdo è lui che è stato un bel pinocchione amore 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 è una cittriola la sei tuoi rps tutti i pazzi è un scherzo amore 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 pinocchione pinocchione amore tutti insieme amore amore amore